Ciao a tutti, io sono Manuela, benvenuti o bentornati sul mio canale. Partiamo subito oggi con i miei ultimi acquisti fatti da Kiko, ovviamente acquisti relativi all'ultima collezione natalizia, la Holiday Gems. Fremevo perché nonostante la collezione sia in realtà uscita ormai già da un po' di giorni, ho aspettato il primo di novembre perché avevo diversi buoni sconto validi negli store che mi avevano dato con acquisti precedenti e quindi mi sono trattenuta e ho fatto questi acquisti solamente adesso e infatti devo dire che in questo modo sono riuscita a prendere un po' di pezzi della collezione senza spendere assolutamente una cifra molto importante. ovviamente mi sono tenuta sulle 50 euro, cosa che per le collezioni limitate, soprattutto quella natalizia, non mi sarei neanche aspettata. Devo dire che ho anche selezionato un po' le tipologie di prodotti che assolutamente più mi interessavano, quello che so che poi avrei utilizzato poco o niente, ho deciso assolutamente di non prenderlo. Io direi però di passare subito a vedere cosa ho acquistato e di andare a provare insieme questi prodotti perché non sto più nella pelle. Ovviamente voi non dimenticate di lasciarmi un like, un commento se questa tipologia di video vi dovesse piacere e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e volete sostenermi e di raggiungermi anche su Instagram. La collezione di Natale è veramente molto bella a vedersi, si chiama appunto Holiday Gems e i packaging esterni delle scatoline sono tutti di questi colori dorati e verde smeraldo bellissimi con al centro il simbolo di una gemma. E andiamo ad applicare insieme il primo prodotto che ho scelto, ovvero questo Glow Elixir che dovrebbe essere un ibrido tra makeup e skincare perché promette di essere un 2 in 1 face base and serum, quindi un siero nutriente ma anche un primer illuminante per la nostra pelle quindi mi è sembrato un prodotto molto interessante, contiene 30 ml di prodotto andiamo ad aprire e secondo me è veramente bellissima anche la boccettina indietro con il tappo dorato ecco siamo un prodotto più laxare e anche più costoso di quello che è poi realmente i vari prezzi poi ve li scrivo sullo schermo in infobox, vi metto comunque tutti i prodotti che utilizzo oggi e vediamo come l'applicatore, sì come immaginavo è fatto proprio a pump carino, molto bello, anche il siero a vedersi perché ha queste per le scienze molto molto belle applico un po' sulla fronte, sulle guance, è un po' scomodo perché scivola l'applicatore come prima impressione non mi sembra male, ha donato luminosità sicuramente alla mia pelle mi sembra anche abbastanza idratante, adesso questo è un po' difficile da dirlo a un primo utilizzo io avevo solo lavato il viso e applicato il tonico, non avevo messo nient'altro comunque non mi sento la pelle tirare particolarmente o secca, io ho la pelle abbastanza secca in questo periodo considerate che è uno di quei primer che rimane appiccicoso sulla pelle, che so che piace tantissimo in questo periodo questa tipologia di primer con questa funzione grip che aiuta il fondotinta ad aderire meglio alla nostra pelle a farlo durare di più durante il giorno, personalmente non mi fa impazzire come effetto non mi piace sentire la pelle così appiccicosa, però se questa tipologia di primer invece vi dovesse piacere sappiate che questo rimane abbastanza... a camera sono ricorsa alla mia pochette Wonder Woman dove ho inserito alcuni dei prodotti Kiko che possiedo e che tengo nelle diverse pochette, così quando decido di fare full face dedicate a Kiko ricorro alle diverse pochette, perché ho realizzato alcuni passaggi con prodotti che o non sono proprio compresi nella collezione o che ho deciso di non acquistare per quanto riguarda le sopracciglia non mi ricordo se c'è un prodotto per le sopracciglia nel caso ho scelto di non prenderlo e ho utilizzato quindi questo Eyebrow Duo della linea Tuscan Sunshine colore 01 che ha la matita e il pennarellino dall'altro lato mentre fondotinta e correttore non ci sono proprio in questa collezione quindi ho utilizzato come fondotinta questo della collezione Wonder Woman il Born to Last Foundation 24 Hour che è un fondotinta che personalmente mi piace perché lo trovo con un finish molto naturale, leggero non è mascherone, pesantone sulla pelle ce l'ho nella colorazione 02 Pursaline è un fondotinta che trovo tra l'altro con un finish che secondo me si può adattare a diverse tipologie di pelle dalle pelli normali alle miste anche a quelle un po' più grasse per le pelli molto secche, me l'ha evidenziato anche una di voi potrebbe effettivamente, io l'ho notato nelle zone dove ho la pelle un po' più secca andare ad evidenziare un po' le pelliccine quindi quando utilizzo questo fondotinta ho bisogno di una buona base idratante quindi ho una buona skin care o un buon primer e devo dire che con questo primer che abbiamo applicato della collezione Natalizia il fondotinta si è comportato benissimo si è steso molto bene in maniera molto omogenea, uniforme non mi evidenzia i pori e non mi sta assolutamente evidenziando neanche le zone di secchezza quindi mi piace tantissimo l'effetto e potrei aver trovato un'ottima combo mentre per quanto riguarda il correttore ho utilizzato questo invece della collezione Lost in Amalfi Core Stylo Concealer nella colorazione 01 che è questo correttore ho deciso invece di acquistare la cipria della collezione Natalizia questa è la Precious Matte Powder che in realtà è un prodotto che viene riproposto tutti gli anni nella collezione Natalizia di Kiko una polvere viso cotta per sfumare, opacizzare e fissare quest'anno però la particolarità è che dovrebbe essere profumata al cioccolato adesso andremo a sentirla e l'ho presa nella colorazione 01 White Chocolate il packaging è meraviglioso sempre a forma di gemma, verde esmeraldo anche all'interno la cialda è stupenda veramente proprio incassonata come una gemma c'è anche lo specchietto quindi molto molto carina prendo questo pennello della collezione Wonder Woman che ho utilizzato anche per applicare il fondotinta e vado ad applicare un po' di questa cipria ma sentiamo il profumo? si si sente un po' la profumazione ma non è che si capisca benissimo proprio che è cioccolato secondo me diciamo che rispetto alle profumazioni sempre mi viene in mente quelle di Too Faced questa non è che si senta particolarmente o mi faccia così impazzire e prendo un po' di cipria e la vado più che altro ad applicare sul contorno occhi e proprio pochino pochino nella zona T perché in realtà questo fondotinta non essendo particolarmente idratante o luminoso con la mia pelle abbastanza secca posso anche evitare di settarlo ed effettivamente pur essendo una cipra opacizzante mi sembra che abbia una texture molto sottile perché non mi ha creato spessore non ha evidenziato pellicine e zone di secchezza quindi non mi sembra niente male tra l'altro l'ho presa anche perché le cipre che ho preso delle ultime collezioni natalizie le ultime collezioni di Kiko quella estiva la Lost in Amalfi mi sono piaciute davvero tantissimo e hanno questa texture molto setosa queste polveri che mi piace tantissimo e anche lei sembra promettere molto bene sicuramente in questo momento nonostante il primer che aveva un finish un po' più luminoso ha una base decisamente opaca ultimamente tendo a fare delle basi un po' più luminose e idratanti visto la mia pelle è secca ma pur essendo una base con questo effetto opaco non mi dispiace per nulla perché comunque è naturale non è mascherone è leggera quel fondotinta ha una texture leggerissima sulla pelle adesso vado ad applicare un po' di bronzer e appunto come bronzer voglio andare a utilizzare queste vecchie polveri viso sempre delle collezioni natalizze di Kiko così nel caso potete vedere anche l'effetto che hanno queste polveri visto che ci sono anche nella collezione di quest'anno se le prendete nelle colorazioni più scure sono felicissima di questa riscoperta e ogni tanto è anche bello riscoprire quello che abbiamo nella nostra make up collection mi ricordavo che erano delle ottime polveri infatti le ho prese per due anni consecutivi ma non utilizzandole da un po' di tempo non avevo più presente quanto davvero mi piacessero e mi piacciono anche adesso con la pelle più secca perché pur essendo un prodotto che nasce come una polvere viso opacizzante ha questa texture davvero così leggera così setosa e impalpabile che si fonde completamente con la pelle utilizzato anche come bronzer quindi davvero è fantastico ed è ottimo per chi cerca una terra completamente opaca non ha il minimo brillantino la minima perlescenza e ha questo effetto stupendo quindi felicissima di questa riscoperta consigliatissimo questo è polveri viso di Kiko di le collezioni nataliche torniamo ora a uno dei pezzi della collezione perché ho preso uno dei tre blush i blush sui dei blush questi dovrebbero essere al profumo di vaniglia ho lasciato perdere la palette viso composta solo da illuminanti o che possano essere utilizzati come blush luminosi adesso non mi ricordo bene le colorazioni l'ho swatchata e mi è sembrata bellina dagli swatch ma ho preferito prendere i pezzi singoli il blush l'ho preso nella colorazione 03 Under the Mistletoe penso si pronunci così ero indecisa tra la 02 e la 03 perché inizialmente a vederla in cialda mi aveva ispirato molto anche la 02 perché era un rosa bello acceso che di solito è molto nelle mie corde ma ho valutato che vista anche la stagione in cui è uscita questa collezione adesso nel periodo autunno-invernale anche dallo swatch mi è sembrato un rosa un po' troppo acceso un rosa baby non so, un po' troppo forse se fosse uscito in una collezione estiva mi sarei orientata più su quello invece adesso ho preferito stare su questa colorazione sto notando che in questo caso il blush è ricoperto da questa carta che invece la cipria non aveva però era in tonza quindi almeno non è stata toccata non so se hanno dimenticato di mettere in quel caso la carta qualcuno l'ha tolta vedete che la forma è esattamente la stessa della cipria ma in questo caso è dorato buonissimo anche lui andiamo ad aprirlo e c'è sempre uno specchietto questa è la colorazione che come vedete è un colore che vira sempre su rosa più pesca con una punta di malva quindi secondo me è più adatto a questa stagione vediamo un po' com'è questo blush lo sto applicando con lo stesso pennello che ho utilizzato per la cipria il colore mi sembra perfetto perché comunque perfetto rispetto a quelli che sono i miei gusti perché comunque è sempre un blush su questi toni del rosa però secondo me il 2 sarebbe stato veramente eccessivo troppo rosa barbie mentre questo lo trovo molto più indicato in questa stagione ma in generale è veramente un bel colore è un blush dal finish completamente opaco non contiene glitter brillantini o per le scienze quindi va benissimo per chi ama questa tipologia di blush io amo anche quelli luminosi sicuramente quello luminoso tende a segnare un po' di più la grana della pelle a dividenziarla devo dire che questo nonostante l'effetto matt dona comunque una bella radiosità sulle guance in questa zona non so se è il colore comunque ha dato una bella luminosità quindi mi piace davvero davvero tanto trovo che Kiko con le ultime collezioni davvero abbia fatto un gran salto di qualità soprattutto per quanto riguarda le polveri viso ciprie blush bronzer illuminanti davvero trovo che abbia fatto un lavoro stupendo vi faccio lo swatch così potete vedere il colore anche dallo swatch vedete che è bello pigmentato perché questo è una sola passata il colore è stupendo ah devo sentire se profuma di vaniglia no non sento alcun profumo di vaniglia quindi non acquistate i prodotti per le profumazioni perché non si sentono acquistateli perché sono secondo me buoni passiamo ad un'altra polvere viso in questo caso un illuminante lo Shine On Eyelighter non ho preso la palette ma ho scelto uno dei due illuminanti singoli nella colorazione questo 01 Kiss of Light tra l'altro è un illuminante indicato per viso occhi e corpo quindi ha più funzioni andiamo ad aprirlo e anche in questo caso non c'è l'incartamento non capisco come mai o i prodotti col packaging verde non hanno l'incartamento solo quelli dorati o non lo so alcuni li hanno dimenticati non li metto non saprei se qualcuno ha preso dei pezzi della collezione mi faccia sapere se ha trovato gli incartamenti o meno il prodotto comunque è in tonso anche in questo caso quindi vado tranquilla vabbè il packaging è identico a quello della cipria e questo è l'illuminante bellissima la cialda la colorazione è questo champagne rosato mi sembra che diri molto sul rosato l'ho preso anche perché mi sono particolarmente innamorata da quest'estate dell'illuminante dell'illuminante della collezione Unexpected Paradise lo 01 Light of Venus questo illuminante ve l'ho parlato più volte secondo me è pazzesco tra l'altro il packaging della Unexpected Paradise sto notando che è identico a quello della collezione di Natale dell'anno scorso e questo è l'illuminante vedete bellissimo anche lui ma assolutamente differente nella colorazione questo è uno champagne dorato questo è decisamente più virante a rosa vi faccio lo swatch così se avete per caso questo illuminante anche perché so che è un illuminante che ha riscosso grande successo vi potete magari orientare sì assolutamente sono differenti guardate questo è proprio più una base champagne dorata questo è proprio rosato lo applico col mio amato pennello di Nabla questo è il mio preferito uh è andata via la scritta quindi non saprei dirvi come si chiama comunque il pennello da illuminante della collezione di Nabla questo è l'effetto dell'illuminante che visto così non è neanche male però se devo essere sincera preferisco lui assolutamente mi piace molto di più questo dell'Unexpected Paradise essenzialmente per una ragione che la texture di questo illuminante della collezione natalizza rimane un po' più presente un po' più visibile rispetto a questa dell'illuminante della collezione estiva quindi lo dovete anche lavorare un po' di più per ottenere un effetto più naturale un po' più uniforme perché altrimenti rischiate di fare un po' la striatura vedete quindi non è male ma sinceramente se io non avessi nessuno dei due illuminanti andrei assolutamente su questo che secondo me è veramente il miglior illuminante che sia mai uscito da Kiko non che questo sia male perché comunque poi l'effetto luminoso è molto bello fa la sua scena però trovo che questo abbia una marcia in più assolutamente quindi stavo facendo troppi complimenti a Kiko ha detto abbassiamo un po' il tiro perché altrimenti siamo ora agli occhi e in questo caso ho fatto veramente solo due acquisti in questa categoria perché la maggior parte dei prodotti non mi servivano ho lasciato stare le palette occhi perché assolutamente non ne ho bisogno carine però gamma colori molto semplice nulla di particolare che vanno sicuramente bene sono pensate per chi vuole truccarsi per tutti i giorni anche che non sono magari delle appassionate di make up tra l'altro ho sempre trovato che le palette delle collezioni natalizie siano di una qualità comunque superiore rispetto alla qualità delle palette occhi normalmente di Kiko che a me non piace particolarmente ho solo una palette occhi di Kiko che ho ottenuto ed è proprio di una collezione natalizia quindi se vi può piacere il genere magari dateci un'occhiata perché normalmente secondo me sono migliori rispetto alle palette che escono con le altre collezioni durante l'anno non ho preso il mascara perché bassa mascara non ho preso gli eyeliner colorati glitterati perché sono prodotti molto carini ma li utilizzerai una volta e poi li lascerei lì le matite occhi non le ho prese perché ne ho già tantissime delle collezioni limitate di Kiko e sono sempre identiche con la doppia mina di due colori diversi quindi di quelle ne ho già adesso non mi ricordo se c'era altro in ogni caso l'unici prodotti che proprio ho voluto prendere che mi hanno ispirato molto anche se sono prodotti già riproposti perché c'erano anche negli anni scorsi sono questi ombretti mono che si chiamano infinite sparkle eyeshadow questi sono usciti in quattro colorazioni e io li ho presi in due colori non ho preso lo 04 blu sempre per il discorso che è un colore che utilizzerei pochissimo e dallo swatch non mi ha neanche convinto molto sinceramente rispetto a queste altre colorazioni non ho preso la 01 perché ce l'ho già perché è esattamente identica a quella uscita con la collezione di Natale dell'anno scorso della Magical Holiday 01 che è questo colore dorato che è stupendo quindi se non ce l'avete non l'avete preso con la collezione dell'anno scorso vi consiglio di prenderlo perché è stupendo vi faccio lo swatch ed è proprio questo colore dorato però è anche proprio più un topper perché non ha una grande base colore quindi a me piace molto a volte applicarlo proprio sulla palpebra sopra un altro ombretto per dargli una luminosità in più perché è davvero una luminosità bellissima mentre quest'anno ho preso la colorazione 02 Coral Symphony questo è il packaging di quest'anno ed è questo colore rosa faccio lo swatch anche di lui è un rosa con dei riflessi però champagne dorati vedete è quasi anche un po' duochrome e poi la colorazione 03 Bordeaux Garnet che invece è questo non esce aspettate che è invece proprio questo colore Bordeaux Rame Rosso che ho trovato un po' diverso dal solito assolutamente non avevo un ombretto mono in cialda di questa colorazione quindi ho voluto prendere qualcosa di diverso in questo caso lo swatch mi è sembrato tra l'altro stupendo perché è proprio questo bellissimo colore ovviamente realizzo un look semplicissimo anche perché ho a disposizione quegli ombretti mono e sto applicando solamente proprio dalla palette che vi dicevo di Kiko che ho tenuto la sparkling holiday questo marroncino come colore di transizione giusto per dare un po' di profondità allo sguardo perché voglio andare ad applicare invece sulla palpebra questo ombretto in questa colorazione rossorame sono molto curiosa anche perché non è un colore che normalmente io utilizzo lo vado a prendere proprio con il dito perché sicuramente avrà una resa migliore diciamo che è più proprio un effetto metallizzato che shimmer luminoso però il colore è abbastanza pieno si stende bene riprendo un attimo il colore di transizione e scurisco un pochino anche con questo marrone nella parte più esterna questo marroncino lo porto anche sotto come punto luce nella prima metà della palpebra sto applicando il colore rosato che poi è un rosa champagne dorato quindi assolutamente si sposa bene con l'ombrato rosso direi che adesso vado a a terminare il look occhi e torno e ne è uscito alla fine direi un look molto semplice però dai colori molto in linea con la stagione autunnali completato con questa matita marrone della collezione wonder woman 02 applicata sulla palpebra e nella rima infracigliare alcuni di voi mi hanno chiesto come mi trovo con queste matite a me piacciono perché sono molto morbide ma non vanno bene se cercate una matita per la rima interna perché lì non scrivono e poi ho messo il mascara della collezione green me che mi piace anche lui tantissimo insieme a quello della collezione della loss in amalfi scovolino in silicone un po' ricurvo che ha un effetto secondo me nero intenso un volumizzante molto molto bello che rende proprio le ciglia cicciotte inspessite come piace a me l'unica cosa tende un pochino a ingrumare è un po' da lavorare ma a me piace davvero tanto questo effetto passiamo poi alle labbra perché sono gli ultimi acquisti della collezione come prodotti labbra ci sono dei rossetti cremosi che non ho preso perché li ho già presi con la collezione wonder woman ci sono questi rossetti bellissimi che escono con le collezioni natalizie con questo bullet stupendo con i brillantini e io ne avevo preso uno con la collezione dell'anno scorso e secondo me è molto bello ma non lo utilizzo abbastanza ad andarne acquistare un altro in un'altra colorazione vi mostro questo perché appunto io ho questo che è comunque simile a quello di quest'anno cambieranno solamente un po' i disegni ed è appunto un rossetto dal finish cremoso effetto metallizzato quindi insomma deve piacere un po' il genere ogni tanto l'ho messo e non mi è dispiaciuto affatto però appunto questo effetto metallizzato non è che lo porto con facilità diciamo vedete che poi i brillantini si perdono un po' non è che si vedono molti i brillantini sulle labbra rimane proprio più questo effetto metallizzato molto confortevole sulle labbra molto cremoso se non ne avete preso mai uno magari uno è anche carino da avere però valutate appunto se vi piace l'effetto sulle labbra e quest'anno quindi mi sono mantenuta sul mio classicone ovvero i rossetti matt questi si chiamano lasting luxury matt lipstick e l'ho presi in due colorazioni la 02 e la 07 ho scelto una colorazione nude questo è il packaging stupendo il mascara è esattamente lo stesso packaging dei rossetti è fatto così e questo è il colore nude che ho scelto tra tutti mi è piaciuto molto lui perché è un colore chiaro ma non né quel nude proprio spento mortino né accesissimo mi è sembrato quella via di mezzo molto bella e se ho preso un nude l'altro colore sarà un andiamo a scoprirlo lo 07 o un bellissimo rosso perché ovviamente da amante dei rossetti rossi e in una collezione natalizia non potevo farmi mancare un rossetto rosso tra l'altro guardate che belli come sono fatti quest'anno con tutta questa squadratura sono davvero bellissimi con questo look ci vedo assolutamente di più il rossetto nude ma applico anche quello rosso per farvi vedere la colorazione poi lo tolgo e vi faccio vedere l'altra è matte ma è molto scorrevole sulle labbra questo è il colore 07 che ha questo bellissimo rosso mi piace tantissimo e scusate se non è perfetto ma visto che adesso lo vado a rimuovere non mi sono aiutata con una matita labbra ma nell'applicazione mi è venuto in mente che questi potrebbero essere anzi forse sono stati fatti pensandoli come dupe dei power bullet di Uda Beauty innanzitutto per la forma del bullet squadrata che è fantastica che amo nei power bullet per l'applicazione perché aiuta a non fuoriuscire dal contorno labbra infatti per aver messo un rossetto rosso fidatevi che mi è andata benissimo senza matita labbra io combino dei danni pazzeschi con il rossetto rosso e invece un'applicazione così omogenea riesco a farla solo con i power bullet e in più sono rossetti dal finish matte opaco che hanno la sensorialità di un rossetto cremoso sulle labbra sono confortevoli la stesura è è proprio è scorrevole è morbida non vi seccano le labbra a me ricordano assolutamente i power bullet i power bullet hanno forse ancora quell'effetto un po' più siliconico che li rende ancora più particolari ma me li ricordano tantissimo sarebbe stato più intelligente applicare prima il rossetto nude e poi quello rosso perché da struccare non è facilissimo passiamo comunque allo 0,2 si guardate proprio questo effetto questo ancora di più ricorda proprio l'effetto siliconico dei power bullet e come concludo sempre look terminato e non posso che confermarvi la mia idea ovvero che questi rossetti siano dei super dupe dei power bullet di Uda Beauty questo colore nude ha poi in più proprio quell'effetto siliconico che vi dicevo prima che ho percepito meno nel rossetto rosso e mi è sembrato proprio di applicare un power bullet quindi secondo me super scopertona se non avete mai provato i power bullet di Uda Beauty è l'occasione assolutamente di farlo con questi rossetti di Kiko perché me lo ricordano tantissimo e le due colorazioni che ho preso la 02 e la 07 secondo me a mio gusto sono molto belle quindi questi rossetti non posso che consigliarveli già ad occhi chiusi e a provare e questo look molto semplice adatto anche a tutti i giorni molto in linea con questa stagione autunnale devo dire che nel complesso mi piace quindi posso dire che anche quest'anno gli acquisti che ho fatto della collezione di Natale di Kiko non mi hanno lasciato assolutamente con l'amaro in bocca sono contenta di tutti gli acquisti che ho fatto ovviamente qualcosa mi ha colpito un po' di più qualcosa un po' di meno perché so che questa collezione è sempre molto attesa e molte di voi anche erano curiose di vedere all'azione questi prodotti quindi davvero di cuore spero che questo video possa esservi stato utile o comunque possa avervi tenuto come sempre un po' di compagnia avervi regalato qualche momento di spenseratezza se così fosse ovviamente spero di rivedervi in un mio prossimo video nel frattempo vi mando un bacione grandissimo alla prossima ciao